Oggi come oggi l'attività di ricerca è decisamente ridotta in termini di superfici investite, di numeri, tuttavia abbiamo un discreto numero di semenzali, che li vediamo qua dietro di me, prevalentemente finalizzati ad un obiettivo ben preciso, che è quello dell'incremento del livello qualitativo, dello standard qualitativo del nuovo materiale genetico, soprattutto in termini di componente aromatica e di dolcezza. C'è qualche novità quindi su questo fronte? Decisamente sì, faremo un incontro tecnico venerdì pomeriggio a cui colgo l'occasione per invitarvi, in cui presenteremo sì le novità varietali, ma anche alcune nuove selezioni che si distaccano notevolmente per questi aspetti, aspetti legati alla dolcezza, legati alla consistenza della polpa, del frutto, della resistenza della superficie, che quindi danno anche una buona tenuta, una lunga shelf life di questo materiale, e anche in termini di aromaticità.